Una cosa nostra è che facciamo un volontariato per i vaccini, per il Covid. Facciamo questa cosa per aiutare anche altre gente, per essere vaccinati. E come avete accolto questo incarico? Tramite il reto che disumiamo da voi, cioè da voi, da Sì, siamo volontariati per aiutare per fare i vaccini. Grazie a tutti.